Le aziende, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, devono essere accompagnate nel cogliere le sfide che l'industria 4.0 sta offrendo. È quanto è emerso dal dibattito al meeting annuale Industrie X.0, promosso a San Marino da Carisma RCT con il patrocino delle segreterie di Stato della Repubblica e di Adaci, l'associazione italiana di acquisti e supply chain. Se da un lato è urgente accelerare il processo di sviluppo digitale, dall'altro occorre riprogettare la propria strategia di business, definire le priorità di investimento e affrontare il cambiamento in modo integrato. Un percorso già avviato da Ansaldo, storica azienda produttrice di turbine e generatori, ora uno dei principali player nel settore del power generation. Luca Luigi Emanuelli, Senior Vice President e Chief Digital Officer di Ansaldo Energia. La trasformazione digitale non è tanto solo un tema di sviluppo di tecnologie, ma è soprattutto di creare quelle competenze necessarie per poi poterle effettivamente applicare. Quindi tutto il tema dello sviluppo delle competenze, quindi tutto il tema dell'upskilling, del reskilling e delle nostre attuali risorse è una priorità fondamentale. Benefici che devono essere stesi a tutta la filiera di fornitori. La Liguria del resto ha espresso nel suo piccolo un ecosistema collaborativo importante, essendo la prima regione ad avere un lighthouse plant, quello di Ansaldo Energia, un digital innovation hub e il centro di competenza Start 4.0. Insieme sono al lavoro per garantire la sicurezza delle infrastrutture attraverso l'uso della tecnologia, al fine di prevenire tragedie come quella del crollo del ponte Morandi di Genova. La regione Liguria rappresenta un po' la Basilicon Valley per la capacità di promuovere l'innovazione e coinvolgere le diverse componenti dell'innovazione, quindi la politica, il mondo della ricerca e l'industria in questo orizzonte strategico. Presente al convegno Industry X.0 di San Marino, tra gli altri, anche il colosso americano Intel, che evidenziando l'impatto e le potenzialità che l'intelligenza artificiale avrà sempre più nei processi produttivi, ha sottolineato come un'efficace collaborazione uomo-macchina sia fondamentale per gestire la rivoluzione in corso. Daria Loy, Principal Engineer di Intel Corporation. La tecnologia che, una delle grandissime cose che distrugge i prodotti o che distrugge un sistema, che distrugge, diciamo, la possibilità per un prodotto, un sistema di essere di successo è l'uomo, cioè l'uomo o la donna, comunque la persona, perché poi alla fine tu puoi mettere le strutture in gioco che vuoi, magari anche sofisticatissime, però se poi gli utenti non la utilizzano o la boicottano o la utilizzano male, alla fine hai speso tanto i soldi. Dai microchip per garantire la sicurezza delle persone sul posto di lavoro agli algoritmi impiegati per cercare talenti all'interno dell'azienda, il meeting di San Marino è stata l'occasione per rimettere al centro della trasformazione digitale l'uomo e la donna. Il futuro sarà sempre di più uno dove non si tratta soltanto di utilizzare queste tecnologie intelligenti per automatizzare, per migliorare la produzione, ma proprio per personalizzare la vita quotidiana dei lavoratori.